Ok, ciao ragazzi, daremo il Pietro in volo sui cieli di Tivoli con la Sky Experience. Ciao Pietro, com'è volare? È bellissimo. È bellissimo? Ha detto che è bellissimo? Gli piace tanto, ha detto. E niente, adesso vi racconta Pietro quello che succede. Vai Pietro, vai. Tienila così, abbracciando, bravo. Intanto considera che la sottoletta tiene una macchina, perciò non ti staccherai mai, è inutile che ti tieni qua. Tieni il bastone, fai le riprese dove vuoi, quando vuoi. Io intanto adesso ti faccio vedere, vedo in là che c'è un po' di tappare. Il sole non si taglia di più. Stai guidando, mi gesto. Eccola qua, eccola qua. Questa è l'aria calda del prato. Senti, senti, senti. Senti che spiata. Che facciamo? Quando vediamo una corretta scelta, c'è una lontana di un pinta. La facciamo di girare, per capire da dove si sposta l'aria calda. Guarda, guarda, guarda. Ogni tanto su questa montagna ci si incontri. Eccolo, eccolo qua. Guarda da parte. Eccolo, eccolo qui. Guarda, in camera lo vedrai poco perché guarda, 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 guarda. Non si porta a volare, è lui che è il padrone qua, mica noi. Noi adesso lo troviamo, vediamo che bombina. Quindi adesso è accelerato. Allora, tutti questi, senti questi movimenti. Questi movimenti li rifacciamo perché siamo l'uccello. Guarda, guarda, come è stato il mare, però il mare è un pochino mozzo, capito? E ha questi movimenti. Ti danno fastidio? No, no. Stai bene? No, no. Perfetto. Ora ti faccio vedere. Guarda, l'uccello intanto ci ha dato una pista, proprio se n'è andato. Lui che fa, lui chiude le ali e va molto veloce. Adesso le ali le chiediamo anche noi. Facciamo una manovra che è molto tranquilla, che è questa. Noi chiediamo le nostre ali, così, vedi, la pressa le ho chiuse. Acceleriamo, veloci, il parapetito. In modo tale che facciamo, scendiamo, molto veloci, che siamo più penetranti. Però non più veloci di quando abbiamo tutte le ali aperte. Però scendiamo di più. Perché voglio scendere? Perché poi ti voglio far vedere che là, quella parte di costone, vicino al decollo, si risale il scoglio. Facciamo una bella termodinale. Quella parte di quel finale lì è lo scoglio che ti spiegavo prima. Cioè è lo scoglio che praticamente l'aria che parte lì e ci porta in alto e ci porta lì. Facciamo una bella termodinale. Facciamo una bella termodinale. E' un po' di più. No, non ti vengono perché stai in movimento, però adesso... Stiamo in movimento. No, non ti vengono perché stai in movimento. Stai in movimento, non ti vengono, non ti vengono, non ti vengono, non ti vengono, non ti vengono. E' un'altra parte. Sì, sì, sì. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.